hai fatto un gol bellissimo frank il primo della stagione come ti sei sentito no contento contento per me contento per la squadra perché siamo anche un situazione 10 contro 11 certo momento molto importante per noi e dai mi fa piacere di fare un gol anche per me anche per la squadra io penso dopo dopo il gol è arrivato la seconda espulsione di nicola però sai dopo 9 contro 11 è stato un po un po più difficile per noi ma io penso che la squadra ha fatto tanta cosa positivo e portante che siamo venuto per fare una bella partita vinci e prende tre punti per noi però la fina quando la situazione così siamo siamo contento uno a uno parlaci del gol quanta qualità lì con buonaventura un gioco c'è l'esperienza un grande giocatore sa giocare è bello per per me per lui per la squadra perché ogni tanto quando arriviamo a trovare le situazioni così è bello a vedere e alla fino a quando facciamo un gol è ancora più bello e adesso testa all'inter sì dove è importante dove bene ricchi recuperiamo bene per la partita contro inter perché una una partita molto difficile contro una grande squadra però giochiamo acqua alla casa e giocare senza paura